Se fossi il Presidente della Repubblica, o meglio se fossi la Presidente della Repubblica, io stasera inizierei il mio discorso di fine anno così, con un disegno, da regalare ai bambini e alle bambine di questo paese, per chiedere loro scusa. Scusa perché per troppi mesi sono stati dimenticati, quando erano costretti a casa senza la scuola, cioè senza una delle cose più importanti per la loro crescita e per il loro futuro. Dimenticati mentre tutti si affannavano a far ripartire il prima possibile fabbriche e centri commerciali, perché poverini loro non producono profitto. E chiederai scusa anche a quell'intera generazione di anziani e anziane, decimata dal Covid, soprattutto in alcuni territori, a causa dei tagli alla sanità e a causa di scelte sbagliate a livello regionale e nazionale, in alcuni casi criminali, come per le RSA. Chiederai scusa a nome di tutti coloro, persino Presidenti di Regione, che hanno derubricato la loro morte come questione di cui dispiacersi, certo, ma meno grave, perché anche loro, come i bambini e le bambine, non producono profitto. E poi chiederai scusa ai lavoratori e alle lavoratrici, tutti quanti. Comincerai da quelli della sanità. Immagino che Mattarella stasera li ringrazierà, almeno li ringrazierà dopo tutto quello che hanno fatto. Immagino che parlerà di unità nazionale, di siamo tutti nella stessa barca. Ma siccome per me no, non siamo tutti sulla stessa barca, io se fossi Mattarella non direi loro grazie, o meglio, non direi soltanto grazie. Io chiederai proprio loro scusa. Scusa intanto perché è indegno che il loro sciopero, il 9 dicembre, insieme al resto dei dipendenti pubblici, sia stato attaccato a reti unificate, facendoli passare come privilegiati per 1.500 euro al mese. E scusa soprattutto perché se per decenni la sanità pubblica non fosse stata continuamente tagliata, loro non si sarebbero ritrovati a affrontare il covid, spesso a mani nude, con turni di 12 ore, 14 ore al giorno, e non sarebbero morti per covid oltre 200 tra medici e infermieri. Chiederai scusa anche alle lavoratrici, sono quasi tutte donne, degli appalti, delle pulizie e delle sanificazioni, quelle senza le quali abbiamo scoperto che per esempio un ospedale andrebbe nel caos in poche ore, che non si sono mai fermate in tutti questi mesi, anche quando soltanto uscire di casa era un rischio. Eroine anche loro, ma dimenticate sempre e da tutti, con un contratto nazionale scaduto da sette anni e salari da fame. Chiederai scusa ai lavoratori, alle lavoratrici dell'RSA, in generale dei servizi sociali e assistenziali, spesso iperprecari, malpagati, costretti a pessime condizioni di sicurezza anche, nonostante il loro importantissimo lavoro. Chiederai scusa ai lavoratori e alle lavoratrici della grande distribuzione commerciale, che hanno mandato avanti il Paese anche nei periodi più bui dell'emergenza sanitaria, permettendo che i supermercati rimanessero aperti sempre, anche in condizioni di iperaffollamento. Anche loro con un contratto nazionale scaduto da un anno e salari tra i più bassi di tutto il Paese, messi nel tritacarne adesso delle riaperture natalizie, perché l'economia non può fermarsi e il profitto vale sempre e comunque più della nostra salute e della nostra stessa vita. Chiederai anche scusa a tutti quelli che sono costretti a lottare per difendere il loro posto di lavoro. Ieri sono stata a Castellammare, al presidio della Merit Bulloni, una fabbrica multinazionale che di punto in bianco, senza alcuna motivazione valida, ha chiuso i cancelli e ha comunicato la chiusura dello stabilimento. Ai lavoratori ho proposto di trasferirsi in un'altra azienda del gruppo, in Val Susa. Dal 18 dicembre i lavoratori sono impresi dai cancelli, giorno e notte, stanotte passeranno il capodanno lì. Io sono andata a trovarli, e non per dar loro chissà quali consigli, o fare chissà quali promesse, come stanno facendo più o meno tutti i politici locali. Li seguo uno dei sindacalisti della FIOM migliore che io conosca, un mio caro compagno, uno dei sindacalisti più sinceri, onesti e combattivi che io conosca. Quindi sono in buone mani, non hanno bisogno dei miei consigli. Io sono andata lì soltanto per rinnovare il mio incondizionato appoggio, la mia incondizionata solidarietà, e soprattutto per ringraziarli, a nome di tantissimi lavoratori, lavoratrici, militanti sindacali, che mi hanno chiesto di farlo. Perché la loro reazione, la dignità che hanno avuto nel mettersi ai cancelli, al freddo in questi giorni di festa, per non farsi mettere i piedi in testa, dà a tutti noi un messaggio per il 2021 migliore. Perché in quella lotta non c'è soltanto la sacrosanta difesa del loro posto di lavoro e del territorio in cui vivono, ma c'è la reazione di tutti noi, che tutti noi vorremmo, dovremmo avere, al fatto che la nostra vita, la vita di chi onestamente fatica e lavora, possa valere così poco per lor signore. Il padrone della Merit Bulloni non si è fatto nessuno scrupolo a dire loro, da un giorno all'altro, che per non perdere il posto di lavoro devono trasferirsi a 900 chilometri da casa. Non gliene è fregato niente delle loro famiglie, dei loro figli, delle loro case. Non gliene frega niente di quel territorio, della possibilità che chi ci è nato possa continuare a viverci onestamente. Trasferitevi a Torino, ma che sarà mai? D'altra parte è più di un secolo che glielo chiedono, cioè di lasciare le loro case, i loro paesi e trasferirsi a fare bulloni al nord. Negli ultimi 15 anni due milioni di persone, soprattutto giovani, hanno lasciato il sud per andare al nord. Due milioni di persone, come se in 15 anni dalla Lombardia fosse sparito un comune intero come Milano. Ecco, Presidente Mattarella, chieda scusa anche a loro. Chieda scusa per chi se ne frega di chi vive al sud. E chieda scusa anche per chi se ne frega delle vite di chi, come me, invece vive al nord. A marzo la mia città, Bergamo, è stata condannata a una vera e propria strage. Tuttora abbiamo il primato mondiale di morti per Covid sul totale della popolazione. Ci sono paesi in Val Seriana che hanno avuto più morti in questi mesi che tra la prima e la seconda guerra mondiale. E sapete che cosa ci ha ucciso? Cosa ha trasformato un'epidemia in una catastrofe umanitaria? La stessa cosa per la quale si chiede agli operai di una qualsiasi Merid Bulloni di lasciare le loro case per trasferirsi al nord. Bergamo è una delle zone più ricche e più industrializzate d'Italia e di gran parte d'Europa. E quello che ha impedito di fare subito la zona rossa in Val Seriana è stato il fatto che le imprese non dovevano fermarsi, dovevano continuare a produrre fottutissimi bulloni. Se morirà qualcuno, pazienza. Come ha detto il presidente di Confindustria di Macerata mentre spiegava poche settimane fa che il commercio non può fermarsi un'altra volta. A Bergamo sono morte 6.000 persone in due mesi. Pazienza. È questo che vale la nostra vita. Così la ricchezza del mio territorio, che è infinite volte maggiore quella, per esempio, di Castellammare, si è trasformata nella nostra più grande disgrazia. E i nostri ospedali, quelli dove venivano da tutta Italia per farsi operare, soprattutto dal sud, quelli che ci convincevano essere un'eccellenza, sono crullati in poche settimane come giganti dai piedi d'argilla, nonostante lo sforzo incredibile del personale sanitario. Sono caduti perché si è scoperto che dietro l'eccellenza della sanità lombarda, in realtà per decenni si sono trasferite risorse dal pubblico al privato. Si è scoperto che anche la salute è una merce su cui fare profitto, esattamente come i bulloni. E quindi anche da noi, nel ricco iper produttivo nord del paese, mancavano le terapie intensive, mancavano le bombole d'ossigeno, mancavano i tamponi, i medici di famiglia, mancavano persino le mascherine. Pensavamo di essere tanto ricchi, e invece ci siamo ritrovati più poveri di paesi del terzo mondo. Come vorrei che la ricchezza di un territorio fosse misurata non dal PIL prodotto, ma dalla bellezza delle sue valli, delle sue montagne, dalla bellezza del suo mare, dell'impagabile patrimonio artistico di questo paese, della sua umanità anche, della solidarietà, della capacità di creare comunità. In questo momento un piccolo posto come Castellammare sarebbe uno dei comuni più ricchi d'Italia, con le pizzerie che fanno a gara la sera per chi porta da mangiare al presidio, con la gente che regala loro la legna, con i lavoratori delle altre fabbriche da tutta Italia che portano e fanno arrivare loro la solidarietà. Ma che ne sanno, poveracci, i padroni di questa ricchezza qui? E che ne sanno i politici? Che ne sanno le nostre istituzioni? Nel discorso di stasera di Mattarella questi operai non ci saranno. E non ci saranno, sono pronta a scommetterci che fosse mai che sbaglio, nemmeno gli operai della Whirlpool, dell'Iva, della Vox o di qualsiasi altra fabbrica in queste condizioni. Non ci saranno quelli che per mesi sono stati in cassa integrazione con metà dello stipendio. Non ci saranno le centinaia di precari e precari che hanno già perso reddito e lavoro in questi mesi, in interi settori dei servizi, del turismo, dell'arte, cultura e spettacolo. Non ci saranno come non c'erano l'anno prima, come non c'erano l'anno prima ancora. L'anno scorso, me lo ricordo bene, non una parola sui quasi mille morti sul lavoro che ci sono stati nel 2019. No. Se morirà qualcuno, pazienza. E pazienza anche se le scuole non riusciranno a riaprire in sicurezza il 7 gennaio. Il Paese ha bisogno di shopping, di turismo, di discoteche. Il Paese ha bisogno di bulloni, mica di scuola. Insomma, il vaccino per il Covid lo hanno trovato. Almeno speriamo. Secondo me bisogna farlo. Bisogna farlo il prima possibile. Ma poi bisogna trovare un vaccino contro questo sistema. Contro questi ingannaggi che ci stritolano, ci costringono a valere non per quello che siamo, ma in funzione del profitto che siamo in grado di dare a loro. In funzione dei bulloni che riusciamo a produrre. E per trovare quel vaccino abbiamo bisogno di lottare, di far valere i nostri diritti, il valore delle nostre vite. Abbiamo bisogno di solidarietà e di dignità. Abbiamo bisogno di fare quello che stanno facendo ad amare i bulloni. Per questo sono andata a ringraziarli. Noi siamo molto migliori di lor signore. Siamo noi che paghiamo le tasse in questo Paese. Siamo noi che lo portiamo avanti, come hanno dimostrato quelli che citavo prima. Senza di noi il Paese si ferma. E se lo ricordino anche i padroni, che pensano di avere il potere di chiudere una fabbrica dall'oggi al domani, impuniti. Noi però abbiamo il potere di resistere. Abbiamo la forza della solidarietà. E alla fine di tutto, comunque, loro hanno bisogno di noi, perché senza di noi, dalle loro fabbriche, di bullone non ne esce nezzo. Se fossi Mattarella, poi, chiederai scusa a Agitù per non averle saputo offrire un Paese migliore. Agitù aveva imparato a difendere le sue capre dai lupi, ma non ha potuto difendersi da chi l'ha barbaramente ammazzata e seviziata, che non è un lupo, è un qualsiasi maschio violento, non importa la sua nazionalità. E con lei chiederai scusa a tutte le altre quasi cento donne vittime di femminicidio in questo 2020, una ogni tre giorni, a tutte quelle che quotidianamente sono vittime della violenza maschile, a chi subisce molesti e discriminazioni a causa della propria identità di genere o delle proprie preferenze sessuali. E con Agitù chiederai scusa a tutte le donne e gli uomini migranti, a quelli che non riescono ad arrivare nel nostro Paese, sacrificati nel nostro mare, sull'altare di un modello di sviluppo ingiusto e diseguale, e ancora a tutti quelli che arrivano, ma finiamo per trattare come schiavi nelle campagne, nelle strade, o a sfruttare nelle fabbriche e nella logistica, incapaci come siamo di accoglierli e impedire che in un Paese come il nostro nessuno debba sentirsi in difficoltà per il colore della propria pelle. Insomma, dopo un anno così brutto, io chiederai scusa. Sapendo che il problema non è il 2020, perché a bisestile nemmeno il sangue di San Gennaro si è sciolto, no, il problema è il capitalismo e la cultura patriarcale che ad essa è legata. Il problema sono i meccanismi dentro il quale stritolano le nostre vite. Ma insieme non smettiamo di cercare di liberarci da queste catene. In fondo, come ci hanno insegnato le donne argentine, che proprio pochi giorni fa, finalmente, hanno conquistato il diritto all'aborto e all'autodeterminazione in un Paese in cui non esisteva, con la lotta, c'è sempre speranza. Con questo, quindi, buon 2021, soprattutto ai bambini e alle bambine. Ciao, ciao.